Sicuramente il Minniti fa bene a tenere l'attenzione alta, sicuramente io continuo a essere dell'idea che i nostri servizi segreti può succedere di tutto, anche in Italia, l'abbiamo sempre detto e lo diciamo ormai da qualche anno a questa parte. Sì, anche come scongiuro, talvolta lo diciamo. Però il fatto che i nostri servizi segreti abbiano un livello qualitativo più alto rispetto agli altri è indubbio, pensiamo solamente al servizio che avete mandato in onda, pensiamo alla notizia che hanno fatto il raid, al servizio che avete mandato in onda dove dicono che i servizi segreti inglesi avevano detto che quella persona era a rischio ma è stata praticamente disattesa la cosa. Poi c'erano stati anche dei messaggi che avevano preceduto l'attacco. A me che abbiano arrestato le persone adesso, chi se ne frega, dovevano farlo prima. Il ruolo dei servizi segreti è proprio questo, prevenire, non arrestare dopo, prevenire che venga fatto che venga compiuto un attentato. Dopodiché io immagino che il numero di queste persone che sono segnalate ai servizi segreti sia un numero piuttosto ampio e che quindi forse questo renda abbastanza difficile controllare le tutte. Però se c'è una segnalazione, almeno quello che c'è sempre stato detto anche dal ministro Minniti, è che quando veniva a riferire, è venuto a riferire nelle varie commissioni, è che nel momento in cui c'è una segnalazione è perché c'è qualcosa di concreto, non è il vicino di casa che dice o l'amico che dice ha postato una stupidaggine su Facebook o su un social network o l'abbiamo sentito inneggiare allo Stato Islamico. Nel momento in cui i servizi segreti fanno una segnalazione vuol dire che c'è qualcosa di concreto. Quindi nel momento in cui il ministro degli interni alza il livello di attenzione vuol dire che c'è qualcosa che non va. Però io faccio sempre un ragionamento perché da qualche anno a questa parte tutte le volte che succede qualcosa alziamo sempre il livello di attenzione. Ma vuol dire che poi lo riabbassiamo o vuol dire che qui continuiamo ad alzare sempre di più il livello di attenzione? E fino a quando è? Quant'è che possiamo alzare il livello di attenzione? Militarizziamo come peraltro ha detto la MEI, no?